Alla mattina scorrete sul letto, fa un bel bagnetto, corre in cucina, schiaffeglio al suo cugino, esce cagando, distrugge Fili Ferrero, lecca a Gumball, perché è il suo preferito. Anyquatch dice chiudi canale e scaccola tutti che ha intorno a tanti haters 603, perché? Perché? Perché si egg? Ecco perché, perché si egg? Ecco perché.